L'inno brasiliano e poi l'inno di Mameli. Un momento partecipato ed emozionante alla Bellavitis 2.0 dove si è rinnovato il sentito gemellaggio tra Bassano del Grappa e la sua controparte brasiliana, di Nova Bassano, un gemellaggio che risale al lontano 1957 e che va rinnovato sempre, come ricorda la preside della scuola brasiliana, la Colbacchini, di evidenti origini venete. Il gemellaggio si fa non solo con i documenti scritti, si fa tra le persone che portano nel cuore la storia, la cultura di questa gente che ha partito d'Italia per andare a Brasile e anche a Nova Bassano. Tra gli studenti si fa oggi, mi sembra di essere la meglio forma di fare il gemellaggio, perché sono persone da crescere e da portare insieme questo amore nel cuore. Le tradizioni e i legami partono dalla lingua, dove i tratti veneti sono ben presenti, come potrete sentire con l'italiano. Il pazzoletto. Il pazzoletto qua che si è pagato. Questo che qua si è a Bombascia. A Bombascia. E qua qua a Guaiacca, che si è il sentito. E se mette su, è il sentito che rappresenta il nostro, il nostro, il tenere sulle braghe. Quello accade in tutto il mondo, eh? E qua, qua amico mio, ma qua anche noi portiamo la facca, qua è la cintura, qua. Sì che è meglio non portarlo qui. Che in altri, in altri, la mangiamo tanta carne, tanto ciurrasco, che è il nostro maniare tipico. E allora che abbiamo sempre la facca là, che la tagliamo so e mangiamo. I dirigenti scolastici bassanesi hanno ben presente questo legame, come pure l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto un incontro stamattina con la delegazione di Nova Bassano, proprio nelle scuole, per dare un segnale della vicinanza, di quello che sarà anche il futuro di questo gemellaggio. Una volta, per comunicare, dovevano arrivare le lettere, le bobine da mettere sui registratori. Adesso invece possono comunicare direttamente e immediatamente. E quindi quello sarà il futuro del gemellaggio. Ed è importante partire dai più piccoli, dai ragazzi, perché ovviamente il gemellaggio spetterà loro per il loro futuro. Bassanesi d'Italia, noi siamo Bassanesi del Brasile. È un piacere tantissimo grande essere qui per avvicinarsi, per rincontrarsi, per scambiare la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, i costumi. Perché siamo distanti geograficamente, ma siamo vicini nella nostra cultura, nel nostro cuore. Grazie. Grazie.